La seconda edizione di Sempre Aperti a Donare arriva a Siderno dove McDonald e la Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald doneranno tra febbraio e marzo mille pasti caldi ad alcune strutture caritative del territorio che offrono accoglienza a persone e famiglie in difficoltà convenzionate con il Banco Alimentare della Calabria. Il ristorante McDonald di Siderno sulla strada statale 106 sarà coinvolto da vicino nel progetto. Il team di lavoro del ristorante si occuperà della preparazione dei pasti ritirati e distribuiti alle associazioni e strutture benefiche come il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta e Maos, Recosol Chiesa Apostolica Evangelica e Comma 3. Le donazioni nella provincia di Reggio Calabria dove McDonald conta quattro ristoranti fanno parte di Sempre Aperti a Donare, l'attività proposta anche quest'anno da McDonald e dal Banco Alimentare. L'iniziativa, dobbiamo ricordarlo, è stata lanciata per la prima volta lo scorso anno con l'obiettivo di dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di grande emergenza come quello affrontato durante il lockdown a causa della pandemia. Quest'anno l'azienda e la sua fondazione rinnovano la proposta nella consapevolezza che certe emergenze non cessano mai di essere tali, rilanciando l'obiettivo. 150.000 pasti donati in 150 comuni italiani entro fine di marzo 2022. Questo è l'obiettivo, che rimane un gesto concreto che coinvolge in prima persona i team dei ristoranti e che ribadisce l'impegno continuativo di McDonald e Fondazione per l'infanzia. Ronald McDonald ha supporto delle persone e dei territori in cui opera.